Con noi parliamo di microbiota, microbioma, fermenti lattici, la puntata è stata proprio intitolata così, fermenti lattici e parliamo insomma di quella che è considerata la star del momento. Lo facciamo con un grandissimo esperto, il professor Lorenzo Morelli, ve l'ho già presentato in anteprima ma per chi si fosse unito a noi solo ora ricordo che è un microbiologo e che è preside della facoltà di Agraria e Scienze Alimentare e Ambientali all'Università Cattolica di Piacenza e di Cremona. Professore buongiorno. Buongiorno. Allora intanto grazie per essere con noi, intanto io voglio subito chiedere a lei di farci capire bene il significato di questi termini. Inizierei microbiota e microbioma. Li sentiamo utilizzare e sembrano dei refusi, in realtà sono due parole che hanno un significato preciso. Partiamo da qua. Allora il microbiota è la parte biologica, la parte batterica, quindi un grande insieme di batteri che vive nel nostro intestino. Il microbioma è l'insieme dei geni, dei componenti genetici del DNA che sono dentro al microbiota. Quindi il microbiota è il complesso delle determinanti genetiche dei geni che sono dentro al microbiota. Abbiamo tutto chiaro? Comunque voi potete scriverci, il professor Morelli rimane con noi sino al termine di questo video, quindi può risponderci. Abbiamo intitolato la nostra puntata fermenti lattici, ma attenzione e abbiamo deciso di non utilizzare il termine probiotici proprio perché volevamo con il professor Morelli fare chiarezza. I probiotici sono fermenti lattici, ma non tutti i fermenti lattici sono probiotici. Allora sembra un gioco di parole, in realtà anche in questo caso chiedo al professor Morelli di darci gli strumenti per capire bene queste distinzioni perché considerate le informazioni di base e noi possiamo poi procedere. Allora parliamo di batteri innanzitutto, sia nel caso dei fermenti lattici che nel caso dei probiotici. Sono i batteri buoni. I fermenti lattici sono tutti quei batteri che nel loro metabolismo alla fine producono acido lattico, quindi errore da non fare, non sono i fermenti batteri che utilizzano il latte o il lattosio, no, alcuni di questi assolutamente non riescono a riprodursi in latte, ma sono quei batteri che alla fine lasciano come catabolita finale dell'acido lattico. All'interno di questo gruppo grande, enorme di fermenti lattici ce ne sono alcuni che sono capaci di vivere del nostro intestino, di riprodursi del nostro intestino, che è un enorme contenitore di batteri lattici e di fare del bene, di essere a favore della vita. Pro biote. E questa è la differenza. Quindi i probiotici sono una fettina, un settore dei fermenti lattici. Allora noi possiamo con queste informazioni di base tornare a parlare del nostro microbiota che interessa sempre di più la ricerca. Io dico è la star del momento. Qualcuno lo definisce l'undicesimo organo. Sì, o l'organo negletto. In realtà le ricerche su questo organo negletto sono partite nel 1907. All'inizio del secolo scorso. All'inizio del secolo scorso. Un tizio abbastanza pazzo che lavorava insieme a Louis Pasteur, quindi siamo all'origine della microbiologia, veramente all'origine, si era accorto di una cosa. Durante le epidemie di colera, che colera è una malattia batterica, data da un vibrione batterico, che c'erano a Parigi, dovete tenere conto delle condizioni igieniche dell'epoca. Che non erano proprio. Non erano il massimo. Ecco, c'erano delle famiglie in cui qualcuno si ammalava e qualcuno no. Domanda, come mai qualcuno non veniva contaminato? Andando a vedere il contenuto fecale in batteri, ci si rese conto che quelli che avevano nel loro intestino i fermenti lattici, meno facilmente venivano aggrediti dal colera. Da lì partì tutta una serie di ricerche, ci si mise molto tempo, lo yogurt industriale è uno dei figli applicativi di questa ricerca, fino ad arrivare poi agli anni 60, quindi si è messo un secolo e mezzo, dove queste grandi applicazioni si fecero negli animali, per cercare di levare l'uso quotidiano di antibiotici, che oggi è proibito dal 2006, nell'Unione Europea, tutti gli allevamenti animali non possono usare antibiotici. Apre una parentesi, quindi la carne che noi utilizziamo è per legge priva di antibiotico? Certamente, quelli che venivano chiamati promotori della crescita, che erano sostanze antibiotiche, che venivano usate tutti i giorni nel mangime, dal 2006 non possono essere più usate. È chiaro che se l'animale si ammala, il veterinario può prescrivere degli antibiotici, ma sono delle terapie limitate nel tempo e di cui comunque poi non ci devono essere più residui nella carne venduta. Ecco, chiudiamo a parentesi, ma questa è un'informazione. Dopo questa grande ricerca sull'uso di probiotici per gli animali e quindi con anche sperimentazioni in campo, molto larghe, molto efficaci, si è pensato, ma perché non possiamo applicarle anche all'uomo? E da qui... Dalla bestia all'uomo? Dalla bestia all'uomo. Dalla bestia all'uomo, il modello animale, il modello animale. E da lì sono nati gli yogurt probiotici, gli integratori. Cos'è successo? Che applicando una quantità di ricerca notevole, tanto per informare chi ci ascolta, ogni giorno nel mondo escono due articoli scientifici con la parola chiave probiotico, quindi siamo intorno ai mille, mille e duecento articoli all'anno. E ci si è accorti che probabilmente si potevano usare questi batteri benefici anche per delle terapie, cioè anche per mettere in rimedio o comunque coadiuvare la cura di patologie. Le patologie le più varie, da quelle psichiche a quelle più decisamente gastrointestinali. Si stanno scoprendo delle funzioni di questo organo dimenticato che veramente prima non si sapevano. Ha tante funzioni, per questo questo organo dimenticato non dobbiamo dimenticarlo ma cercare di metterlo nelle condizioni migliori per stare bene. Assolutamente. Perché molto spesso ormai l'abbiamo sentito dire, lo associamo ad esempio al nostro sistema immunitario. D'altronde professore, lei è andato indietro nel 1900, i nostri nonni dicevano che quando la pancia sta bene, noi tutto il resto va. Ecco, quali sono allora le attenzioni, le precauzioni che nella nostra quotidianità, con il nostro stile di vita, il nostro stile alimentare, noi possiamo mettere in atto per dare la possibilità al microbiota di mantenersi sano ed efficiente, quindi lavorare per noi, per la nostra salute? Innanzitutto i batteri lattici del nostro intestino, i batteri probiotici, amano le fibre. Amano le fibre, esattamente come i nutrizionisti ci dicono dovremmo amare noi, quindi una dieta molto variata e con un buon contenuto in fibre ha anche questo effetto secondario, ma è importante di aiutare lo sviluppo di questi batteri. Teniamo conto che noi ingeriamo meno batteri di una volta, cioè noi per motivi di vita moderna mangiamo molti cibi pastorizzati, sterilizzati, dove il contenuto in batteri è ridotto a zero o quasi. Questo va bene perché ci consente di avere una sicurezza alimentare molto alta, però paghiamo lo scotto di non ingerire dei batteri che invece potrebbero anche essere buoni, per cui quelli che abbiamo nell'intestino aiutiamoli. Se poi ci sono in previsione dei potenziali problemi, sta cambiando il clima, in questi giorni si è abbassata la temperatura. Sì, infatti io sono raffreddata, non è l'influenza, sarà la cugina, la parente alla lunga, però è brutta. È già brutta perché è raffreddore, mal di pancia, mi sento un po' costipata. Che posso fare? Intanto gliel'ho buttata un po' anche a lei. No, però vabbè, io ho le mie autodifese. Allora, il discorso è che l'intestino contiene il più grande numero di cellule del sistema immunitario di tutto il corpo, quindi il grande reservoire di cellule immunitarie è l'intestino. Alcuni di questi batteri parlano a queste cellule, scambiano dei messaggi e gli dicono stai attivo, tienti pronto perché può succedere qualcosa. Ecco, questo è, tra l'altro ci sono degli studi molto belli che ad esempio nel periodo che precede una vaccinazione, che segue una vaccinazione una settimana prima o una settimana dopo, più o meno, l'ingestione di probiotici aumenta il titolo anticorpale, cioè aumenta l'efficacia quando noi prendiamo un vaccino nel nostro sangue e si accumulano degli anticorpi. Quanti se ne accumulano? Allora, devono essere un certo numero perché sennò il vaccino non ha fatto presa, non funziona. Questo è un problema particolarmente nelle persone molto anziane, sopra gli 80. In alcune diverse di queste persone anche la vaccinazione però non riesce a stimolare sufficientemente il sistema immunitario. È stato dimostrato che prendendo alcuni cepi probiotici appena prima, appena dopo, si ha un effetto che gli immunologi chiamano adiuvante, aiutante. Quindi si riesce a far raggiungere il vaccino il titolo di anticorpi corretto per proteggere contro l'influenza. Danno una mano e quindi sono particolarmente indicate ad esempio per le persone che hanno una certa difficoltà come gli anziani. Sì, assolutamente sì. Il sistema immunitario degli anziani non è efficientissimo e quindi poter aiutare con una ingestione alimentare, non stiamo parlando di terapie, ma con un'aiuto alimentare di batteri che stimolano il loro sistema immunitario, sicuramente è positivo. Tra l'altro uno degli altri effetti di probiotici è anche quello di regolare il transito intestinale. Molti anziani, un po' perché si muovono poco, un po' per un tipo di dieta, hanno problemi di stipsi, quindi di non regolarità dell'intestino. Quindi noi diciamo probiotici per stimolare il sistema immunitario, me la passa? Assolutamente sì. Ok, nelle persone che hanno problemi di stitichezza, quindi per regolarizzare la motilità intestinale, ok? Dico stitichezza. Quali altri effetti protettivi possiamo ottenere dai probiotici, ma poi lei ci aiuterà a capire dove si trovano, quanto prenderli, quali prenderli, di che tipo e che caratteristiche devono avere questi probiotici per fare tutte queste belle cose. Colesterolo? Il colesterolo è dibattuto. Il colesterolo è dibattuto, ci sono evidenze a favore, evidenze contrarie, io su questo sono abbastanza prudente. Sicuramente invece ci sono degli studi che dimostrano un effetto di riduzione dell'infiammazione intestinale. Alcuni di questi ceppi riducono uno stato infiammatorio, che entro certi limiti è positivo, però se supera certi limiti in realtà è dannoso, insomma. C'è poi un'azione di contrasto alle infezioni, questo io quando parto per i miei giri di lavoro in paesi un po' a rischio, a rischio vuol dire certe zone dell'India, certe zone dell'Indonesia, prima mi prendo i miei probiotici. Lei d'altra parte è un po' il papà dei probiotici. Non solo, insomma, ecco, sì, comunque diciamo che gli studi nel mio istituto sui probiotici sono cominciati tra la fine degli anni 70, probiotici umani, tra la fine degli anni 70 e primi anni 80. Probiotici per controllare il peso, verità o bufala? Allora, all'inizio l'idea che nasce da un gruppo americano si è rivelata una bufala, nel senso che le analisi, pur pubblicate su una prestigiosissima rivista, si sono rivelate poi inesatte e questo ha dato poi origine a una serie di contestazioni. Potete immaginare il mondo scientifico è abbastanza rissoso, no? Per cui... In realtà il microbiota tra le persone obese e quelle non obese è diverso. Questo è un dato di fatto. Che sia una causa o una conseguenza è ancora oggetto di dibattito e quindi io andrei cauto nel dire che... Quindi possiamo dire lavori in senso come ricerche in corso. Lavori in corso. Lavori in corso, ad esempio, sono più avanzati, allora da questo punto di vista, dal punto di vista delle evidenze scientifiche, quei lavori che mettono in correlazione, e qui molti si stupiranno, l'umore al contenuto di batteri dell'intestino. Il proprio nude, come dicono l'inglese. Questo è molto interessante. Sì, perché noi pensiamo all'intestino come a un tubo impermeabile, chiuso. Ma non è vero. Le cellule intestinali sono legate l'una all'altra in maniera molto solida, ma non impermeabili del 100%, per cui possono passare delle sostanze che arrivano al cervello. E questo, la cosa che ha stupito noi microbiologi, è che negli ultimi sei anni, se noi mettiamo la parola chiave probiotico nei database degli articoli scientifici internazionali, beh, saltano fuori riviste di psichiatria. Quindi, al nostro collega, al nostro compagno, al marito o alla moglie, che vediamo un pochino più giù di tono, possiamo provare con una cura di probiotici per provare a vedere se il suo umore si rasserena, si torna un po' su? Sì, e anche un'altra cosa. Qui ci sono degli studi pubblicati, molto interessanti. Allora, studenti universitari che dovevano affrontare l'esame di medicina di anatomia, che è notoriamente una brutta bestia, sono stati, è stato misurato una serie di marcatori del sangue, della saliva, eccetera, che sono marcatori di stress. Quindi questi sono dati oggettivi. Sì, anche se non ci sarebbe stato bisogno di misurarli, perché davanti a un professore, chissà i suoi studenti, quando vengono da lei, lo stress, sì, un altro che probiotici. E allora hanno scoperto che... Hanno scoperto che, ovviamente hanno diviso gli studenti in due gruppi, eccetera, eccetera. Hanno scoperto che quelli che ingerivano un certo tipo di probiotico avevano una netta riduzione di questi marcatori di stress. Che poi questo si sia tramutato in un miglior vuoto all'esame, l'articolo scientifico non lo dice. No, perché uno può essere poco stressato e bestia. Esatto, questo non... Vabbè, gli autori non ci hanno reso... Quindi passiamo nel nostro elenco, sistema immunitario, stitichezza, lavori in corso invece per obesità, mentre ok per l'umore e anche per la, tra virgolette, gestione dello stress. Sì, per la gestione dello stress, e questa è una delle cose più interessanti, perché poi ha delle applicazioni che vanno di fuori dell'alimentare, che vanno veramente nella terapia delle patologie, come nel caso dell'autismo. Nel caso dell'autismo non c'è la cura per l'autismo. Mettiamo ben chiaro questo. Al momento. Sì, però ci sono diversi lavori clinici, quindi studi clinici, in cui in gestione di probiotici ha ridotto alcune crisi, soprattutto dei bambini autistici. Ecco, questo è interessante. Professore, proprio oggi a Obiettivo Salute, per lanciare anche il nostro appuntamento, abbiamo parlato di un filone di ricerche che va a indagare la composizione del microbiota per valutare se ci possono essere delle possibili relazioni tra alcune batteri presenti nel microbiota e lo sviluppo della malattia di Alzheimer. Anche voi come gruppo ci state lavorando, quindi dovrebbe forse essere racchiuso nell'intestino la soluzione, una possibile soluzione che ci porterebbe ad arrivare ad una cura per le malattie neurodegenerative. L'Alzheimer, lo sappiamo, è una delle forme più diffuse di demenza. Professore, mi spiega, perché questa sarebbe veramente una rivoluzione. Ma dunque, tutto nasce alcuni anni fa perché una delle forme di Alzheimer, io poi non sono un clinico, quindi sono molto prudente, si basa sulla comparsa nel cervello di placche che vengono chiamate placche mieloidi. Si è scoperto che alcuni batteri intestinali producono una sostanza che è chimicamente identica a quella di queste placche. Allora, voglio dire, è scattata immediatamente. Ma non è che c'è una correlazione? Probabilmente questa correlazione non è vera, però come in tantissime ricerche scientifiche, se l'ipotesi di base si rivela fasulla, però il percorso di ricerca in realtà permette di capire che i batteri intestinali rilasciano delle sostanze che vanno nel circolo sanguigno e che arrivano, penetrano la barriera del cervello e arrivano ai neuroni. A questo punto, evidentemente, la curiosità è enorme per andare a vedere queste cose. Però bisogna stare, ecco, Volevo fare questa distinzione. Fino ad adesso la maggior parte dei lavori scientifici ha riguardato i probiotici che possiamo ingerire con gli yogurt, con gli integratori alimentari e che hanno un certo campo di applicazione. I medici, tra Europa, Stati Uniti, Giappone e Cina, che è attivissima alla ricerca in questo settore, stanno adesso proponendo la formulazione di farmaci con alcuni batteri, che non so se si chiameranno ancora probiotici o no, per non far far confusione al consumatore, però saranno farmaci, quindi registrati, testati, secondo le varie leggi, eccetera, eccetera. E tutto questo nasce dalle ricerche sugli animali. Questo è molto interessante come percorso scientifico. Professore, quindi potremmo avere in un prossimo futuro dei farmaci a base di probiotici. Ma io vorrei chiedere, dato che ha parlato di vari tipi di probiotici, che caratteristiche deve avere un probiotico per essere in grado di svolgere tutte quelle funzioni che la ricerca ha dimostrato e in parte sta dimostrando? Dove vado a prenderli? Poi faccio la domanda, perché mi arrivano segnaloni che non riesco a vedere lui. Insomma, io sono limitata. Dove devono cercare un probiotico per la Nico? Ecco, professor Morelli, intanto, che caratteristiche deve avere? Quando parlo di probiotico, a me viene in mente o l'integratore o lo yogurt? Sì, allora, innanzitutto in Italia abbiamo delle linee guida del Ministero della Salute dai primi anni 2000. Siamo stati il primo paese in Europa ad adottarle. Allora, primo la quantità. Un prodotto, per mettere il termine probiotico, deve contenere non meno di un miliardo di batteri vivi e devono essere vivi fino all'ultimo giorno del giorno di conservazione, della data di scadenza. Dopodiché i batteri che sono dentro devono essere ben identificati e devono avere alle spalle della letteratura scientifica che dimostri che sono attivi, che sono positivi per una certa cosa. Tenete conto che ci sono dei probiotici, il primo ha detto che molti probiotici sono anti-infiammatori, ma in realtà ci sono dei probiotici infiammatori e questo non è dannoso, perché in caso di allergie creare una piccola infiammazione intestinale può essere positivo. Quindi bisogna sapere a che tipo di disturbo ci si vuole rivolgere. Però la caratteristica che è più facile da controllare per il consumatore ci deve essere nome e cognome, quindi nome del genere e nome della specie, che sono due nomi latini, lato bacillus acidophilus, lato bacillus rhamnosus, bifidobacterium lactis, e deve esserci la quantità, uno per dieci alla nove, cioè un miliardo, minimo. Almeno un miliardo. Almeno un miliardo. Ma tutti questi nomi latini? Questi nomi latini sono normati da... c'è un'organizzazione mondiale dei microbiologi che dice, tant'è vero che in Italia sono state multate delle aziende che sono venute fuori in etichetta con nomi di fantasia. Cioè non deve essere inventato nulla, ma soprattutto anche il numero deve essere preciso. Faccio un esempio, sono state diverse aziende che avevano commercializzato dei prodotti che in etichetta riportavano il termine latto bacillus sporogenes, cioè un latto bacillo che fa delle spore. Ma nella definizione internazionale dei microbiologi i latto bacilli non devono far spore, altrimenti non sei un latto bacillo. E questi ditti si sono presi una bella multa. Allora, intanto mi sono persa l'altra domanda, ma che però me la rifanno. Ragazzi, è colpa sua, il professor Morelli non mi dà il probiotico. Per la colite spastica, domanda secca per il professore, poi riprendiamo l'altra. Sì, ma non in maniera indiscriminata, chiedere al proprio medico il tipo di prodotto. Ecco, bravo. Questa è una risposta che però a me dice poco, nel senso che, però mi fa arrivare a pensare che voi sapete esattamente i ceppi che vanno bene per... Ma il nostro medico li conosce, secondo lei, o bisogna andare da un microbiologo? Allora, molti gastroenterologi e molti pediatri, perché molti probiotici poi sono utilizzati in pediatria, in realtà negli ultimi dieci anni sono stati molto informati su queste cose. Il fatto che escano due articoli scientifici al giorno dimostra che c'è questa cosa qui. Allora, se è per un discorso di uso di probiotici per affrontare la stagione che cambia, robe di questo genere, uno può andare a proprio gusto, a proprio naso. Per una patologia come la colite spastica, sì, alcuni probiotici ci sono, però è meglio chiedere al medico. Per quali altri problemi, abbiamo parlato di colite spastica, intanto io poi recupererò l'altra domanda, avete individuato i batteri probiotici corretti? Quello classico è l'IBS, cioè la sindrome del colon dell'intestino irritabile. Ci sono un range di prodotti con alle spalle diversi studi clinici che dimostrano una riduzione, anche qui io sono prudente, non si parla di scomparsa, ma una riduzione dei sintomi. Questa è una sindrome non chiarissima da dove salta fuori e quindi... Allora, per chi è intollerante al lattosio ci sono problemi? Questa è una bella domanda, brava. Bisognerebbe dare i punti per le domande. Allora, qui mi dà anche l'occasione di fare un po' di polemica. Gli yogurt, anche quelli normali, non quelli probiotici, sono in realtà utilizzabili dalle persone intolleranti al lattosio e questo lo dice l'EFSA, lo dice l'autorità europea che è rigidissima in queste cose, perché una parte del lattosio viene digerito durante la fermentazione, ma la quantità che rimane sarebbe ancora sufficiente a dare dei problemi. In realtà, i batteri dello yogurt nel transito intestinale finiscono di digerire il lattosio. Quindi io, ad esempio, non capisco per me un'idea di marketing è quella di lanciare i yogurt fatti con latte del lattosato. Lo yogurt si può già utilizzare. Cosa diversa se sente intolleranti al latte. E poi ci sono gli integratori che sono totalmente privi di lattosio. Ecco, ma quando utilizziamo dei probiotici per andare a curare o migliorare lo stato di alcune malattie particolari, noi parliamo specificatamente di integratori, quindi di probiotici che sono in prodotti che noi acquistiamo prevalentemente in farmacia, mi sembra. Di solito sì, anche perché le concentrazioni batteriche che sono dentro gli integratori di solito sono superiori a quel minimo che ho detto prima. Però con un'avvertenza, non è che la più grande quantità possibile automaticamente assicura migliori benefici. Perché questi batteri sono vivi, sono sostanze vive che si riproducono all'intestino e quindi il miliardo o i 5 miliardi che sono presenti in molti integratori in realtà sono più che sufficienti. Le centinaia di miliardi bah. Sì, è un po'... Sì, non è che diciamo più ne abbiamo meglio è. Però siamo portati a pensare che se una cosa fa bene in una certa quantità aumentando la dose chissà che vantaggi ho. Invece non funziona così. Invece no, perché questi si riproducono. Cioè, queste non sono come le vitamine. Se io prendo 5.000 unità di vitamina, ebbè, quelle sono 5.000 unità. Ma se io prendo 5 miliardi di batteri, dopo mezz'ora sono 10 miliardi e dopo un'altra mezz'ora sono 20 miliardi perché si duplicano ogni circa 30-40 minuti. Figliano, come si dice. Eh sì, anche troppo a volte. E cosa succede se io esagero? Ma allora... Cioè, con tutti questi fermenti. Negli studi fatti sugli animali si è dimostrato che al massimo, però dando dei dosaggi che prevederebbero tradotti nell'uomo un etto di integratori al giorno, che anche dal punto di vista del portafoglio sarebbe un po' pesante, ecco, si avrebbero delle feci molli. Questo è il massimo di... Candida e probiotici, un grande tema. Un grande tema... Perché anche lì la letteratura si sta... Sì, si sta muovendo molto. Allora, il discorso è che la candida vaginale è comunque legata di solito a un disequilibrio dell'intestino, del microbiota intestinale. Molti batteri lattici sono antagonisti dei lieviti a cui appartiene la candida. quindi poter controllare la microbiota intestinale e ridurre la presenza di candida riduce la percentuale di recidive. Questi sono dati pubblicati. Questi sono dati pubblicati il che significa che ci sono dei andando dal nostro medico in farmacia l'esperto può darmi dei probiotici che vanno proprio a lavorare sul... l'azione è doppia perché li prendiamo per bocca colonizzano l'intestino e riducono la quantità di candida dell'intestino e alcuni di questi ceppi è stato dimostrato tra l'altro con un fingerprinting molecolare cioè prendendo l'impronta digitale del singolo ceppo che arrivano in vagina quindi si può colonizzare la vagina con questi batteri lattici prendendoli per bocca cosa che è estremamente più comoda che non usare altre cose ovuli di questo genere ma professor Morelli abbiamo ancora tante domande ma il tempo è a nostra disposizione perché il professor Morelli poi se lo sprimo troppo non torna più per cui per farlo tornare devo dargli un po' di respiro quando noi parliamo di terapia tra virgolette con i probiotici noi cosa facciamo? facciamo dei cicli di probiotici possono invece diventare degli ingredienti che noi utilizziamo tutti i giorni come possiamo c'è un momento ideale della giornata per assumerli? allora tre diciamo tre tipi di risposte sì l'immissione nell'intestino di alimenti con dentro dei probiotici può essere una buona abitudine quotidiana proprio per mettere rimedio a quella mancanza di batteri che l'uso di pastorizzati sterilizzati eccetera ci fa avere invece un uso mirato nel tempo perché cambia la stagione probabilmente bisogna avere le idee più chiare su che tipo di probiotico assumere se c'è invece un intento terapeutico sentito il medico anche qui bisogna scegliere un tipo di probiotico che sia stato provato per quella patologia e di solito la somministrazione però non può essere inferiore ai 15 giorni perché è un intervento di tipo biologico non è un qualcosa che può avere effetto in 24 a 36 ore insomma quindi bisogna dare il tempo ai probiotici di fare i probiotici di fare il loro lavoro di lavorare per la vita pro bios anche perché parliamo di un miliardo ma nell'intestino per ogni grammo di contenuto intestinale ce ne sono cento di miliardi di batteri quindi devono farsi largo questi numeri professore intanto io anticipo a chi ci sta ascoltando che ho pensato di rubare il professor Morelli per la bufala in tavola che è il nostro appuntamento che smaschere le bufale la domenica perché domenica dopo domenica il professor Morelli ci racconterà qualcosa che forse non sappiamo sugli alimenti quindi io vi dico guardatemi e venite a trovarmi in video ma c'è anche Obiettivo Weekend il sabato e la bufala in tavola la domenica dove ritroverete il professor Morelli che aspettiamo presto a Obiettivo Salute grazie professore grazie a voi e cosa possiamo dire buon probiotici a tutti buoni probiotici